Il Consiglio Comunale ha approvato l'integrazione alle normative del noleggio con conducente. Con i voti favorevoli della maggioranza e l'assenzione dell'opposizione, tranne il contrario di Nolfo, si è deciso che si aprirà la possibilità a 12 operatori di fare domanda per il rilascio di nuove autorizzazioni per veicoli a motore, con meno di 9 posti da destinare al servizio di trasporto di persone per scopi ludico-turistici, su tragitti determinati dall'amministrazione. In conclusione di seduta, con l'ok della maggioranza e l'assenzione dell'opposizione, è stata approvata la possibilità di concedere gratuitamente un'area comunale alla Regione per il posizionamento di una stazione in monitoraggio della qualità dell'aria.